Ci sono canzoni indimenticabili con parole che rimangono nel cuore, che toccano le corde, che non escono dalla mente e così eppure per quelle musiche che accompagnano le immagini di film che sono nella storia del cinema. Si è ispirato a quest'ultimo tema, a Irone Comunicazione, che produce una serata che si prevede fantastica e andrà in scena sabato sera al Teatro Diana di Nocera Inferiore, il concerto dell'orchestra filarmonica Campana diretta dal maestro Giulio Marazzia, la nuova iniziativa musicale che fonderà insieme emozioni delle colonne sonore dei grandi film del cinema italiano internazionale e le immagini più belle delle stesse pellicole che diventano, per chi guarda e ascolta, un unico straordinario messaggio. La musica nel cinema, questo è il titolo della serata che avrà inizio alle 20.45 di sabato, un evento tributo ai più grandi compositori di colonne sonore per il grande schermo. Da John Williams ad Anzimmer, da Nicola Piovani ad Ennio Morricone, l'orchestra filarmonica campana proporrà capolavori da Oscar. Il programma prevede nella prima parte i capolavori del cinema americano come Star Wars, Forrest Gump, Il gladiatore, poi da Hollywood si passerà alla fabbrica dei sogni italiani, Cinecittà. Seconda parte infatti con un tributo a Ennio Morricone, recentemente insegnato dell'Oscar per Hateful Eight, ma anche per un pugno di dollari al Grammy Trustis Award e per il contributo nel campo della registrazione musicale. E poi Nicola Piovani, premio Oscar per La vita è bella, Nino Rota, con le sue colonne sonore indimenticabili del film Otto e Mezzo. Le performance vedranno in scena ben 45 musicisti che verranno accompagnati da proiezioni video e dalla voce del soprano Giusi Luana Lombardi. Per chi intendesse ancora acquistare biglietti, basta contattare la segreteria al 349 39 25 763.